Padre Oleg, com'è la situazione in Ucraina oggi? Durante questi cinque giorni in guerra in Ucraina i nostri eroi cercano di mantenere la sicurezza del Paese. La nostra guardia è stata molto forte perché fortemente motivata. Il nemico sta perdendo tante forze, con tante vittime. Anche in Ucraina ha subito tante vittime, non solo militari, ma anche tanti civili. Penso che voi abbiate visto in tv come sono state bombardate le nostre ambulanze, come hanno bombardato ospedali pediatrici, scuole materne, orfanotrofi. In questa situazione di pericolo per i civili molte persone scappano dalla guerra verso Europa, anche verso regioni dove è meglio e più tranquillo vivere. Voglio fare un invito perché tra due giorni cominciamo la Quaresima e questo è un tempo favorevole per entrare nella preghiera profonda e pregando per far nascere il desiderio di aiutare non solo con le parole, ma anche con fatti concreti. Il mio appello è a mandare aiuti materiali anche, come viveri, vestiario, medicine, offerte in dinario. Pensiamo che quello che regaliamo lo mettiamo in cielo e lo troveremo come nostro tesoro davanti a Dio. Tu hai amici che stanno lì in Ucraina, che stanno combattendo. Cosa ti dicono? Sì, io ho amici che anche capellani ucraini, capellani militari che stanno là, dicono che la battaglia è molto forte. Ma tutti alzano con tanta forza perché pregano per loro tutto il mondo e vogliono pace e chi vuole pace sempre vincere.